Ciao a tutti ragazzi, oggi unboxing Brotis Ciao, si gira Allora ragazzi, vediamo cosa c'è dentro questo baccone, prima di tutto un cappellino della Savage X-Core, proviamolo subito, collate Omega 3 Burro di aratidi, 3 fatti da 600 grammi di amminoacidi calificati Allora ragazzi, parliamo di questi integratori Prima il integratore, gli Omega 3 Gli Omega 3 con l'aggiunta di EPA Plus Gli Omega 3 sono semplicemente degli acidi grassi che aiutano l'azione antinfiammatoria del nostro corpo, con l'aggiunta dell'EPAC che è l'acido e icosapentanoico Ci permette di salvaguardare il nostro cuore, diminuendo il colesterolo che si accumula nelle arterie, l'LDL, quello cattivo Sembra marca Brotis, ottimi antinfiammatori Passiamo al successivo Collagene, con l'aggiunta di magnesio e vitamina C È un ottimo integratore per fornire supporto sia alla nostra cartilagine che alle nostre articolazioni Perché ovviamente ci dobbiamo sempre prendere cura non solo dei muscoli ma anche della nostra struttura Noi sappiamo che l'apparato locomotore è costituito sia da sistema osseo che da sistema muscolare Che insieme, lavorando sinergicamente, formano l'apparato locomotore Dato che ora sono abbastanza carboidrati, ho fatto una scorza di amminoacidi ramificati nel rapporto 2-1-1 Poiché abbiamo questi qui della Win Nutrition Rapporto 2-1-1 Poiché abbiamo 1500 mg di leucina 750 mg e 750 mg sia di isoleucina e di valina Sono amminoacidi ramificati plus Poiché c'è l'aggiunta di martodestrine, carboidrati Ebbene, ora c'è un jolly Questo jolly Secondo voi cosa può essere? Ho preso qualcosa di goloso Ma ora ragazzi ci aspetta il pezzo ciccioso del video Poiché sto abbassando i carboidrati come ho detto prima Alzerò un po' i grassi Quale fonte di grassi buona possiamo trovare? Veloce, gustosa e semplice Burro di arachidi Con pezzi di arachidi crunchy Ebbene, proviamolo in diretta Vediamo come Dall'odore sembra veramente buono Già mi sono sporcato, al solito Ragazzi, dall'odore sembra buonissimo Ma proviamolo Assaggiamo questa delizia Nu, ma proviamolo in diretta All'altra ma proviamolo in diretta Aggiungo sulle Aggiungo sulle Aggiungo sulle Aggiungo sulle Aggiungo sulle è di una cicciosità unica ragazzi nei commenti voglio l'hashtag cicciosità roman no il cucchiaio è affondato ho fatto un casino sto facendo un casino lo faccio per voi hashtag cicciosità roman ragazzi chiuso il barattolo è chiuso pure questo video ciao alla prossima no basta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti